Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento meteo di Antenna 2. L'ennesima perturbazione atlantica è transitata questa settimana su tutto il nord Italia, portando piogge e rovesci diffusi e una sensibile diminuzione delle temperature. Ma questa perturbazione ormai è passata e di nuovo, come vedete, il bel tempo avanza dal Mediterraneo centro-occidentale e l'anticiclone conquisterà anche le regioni centro-settentrionali. Quindi avremo bel tempo prevalente nei prossimi giorni a causa del rafforzamento dell'anticiclone delle Azzorre. La bassa pressione passata nei giorni scorsi invece scorrerà lungo i Balcani per poi allontanarsi verso est. Infatti, se osserviamo l'immagine da satellite di oggi, vedremo appunto l'anticiclone delle Azzorre che ormai ha conquistato gran parte del bacino del Mediterraneo e si sta espandendo verso l'Italia. Ancora qualche residuo a nuvolamento è presente sul Trentino Alto Adige e lungo le regioni adriatiche, ma ormai la bassa pressione scivola lungo i Balcani verso l'Egeo. Quindi un deciso miglioramento del tempo, sebbene le temperature si mantengano abbastanza fresche, soprattutto al primo mattino. Come andrà invece la settimana prossima? Abbiamo visto che l'anticiclone delle Azzorre tende ad allontanarsi invece di nuovo verso le regioni meridionali. Si aprirà quindi un canale instabile proprio sulle nostre regioni settentrionali che determinerà a partire da metà della settimana prossima un nuovo peggioramento del tempo. Ma andiamo con ordine e vediamo l'evoluzione del tempo per la giornata di domani, domenica, in Valle Seriana. Abbiamo detto che il tempo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso sia nella zona dell'Alta Valle Seriana e Valle di Scalve, sia nella zona della Medio-Bassa Valle Seriana, Lago di Seo. Abbiamo segnalato temperature piuttosto fresche al primo mattino intorno ai 10-12 gradi nella piana di Clusone mentre le massime via via tenderanno a aumentare di qualche grado riportandosi nella media del periodo quindi con temperature a Clusone intorno ai 24-25 gradi di massima, 26-27 gradi a Bergamo, qualche grado in più sul Lago di Seo. Vedete che qualche innocua nuvola potrebbe interessare nel pomeriggio i nostri rilievi orobici ma non sarà nulla di significativo e non vi saranno precipitazioni. Passiamo quindi all'evoluzione del tempo invece per la settimana in Valle Seriana. Abbiamo detto che questo anticiclone durerà per qualche giorno però poi si aprirà quel canale instabile che abbiamo visto in precedenza che determinerà un nuovo peggioramento del tempo. Lunedì abbiamo messo un po' di piovaschi al pomeriggio, nulla di preoccupante, sarà la coda di un fronte che passerà a nord delle Alpi, quindi ci lambirà appena e vedete che le temperature guadagneranno ancora qualche grado e saranno comprese fra i 15 gradi di minima e i 26 gradi di massima. Martedì avremo una giornata con alternanza di schiarite e di nuvolamenti senza precipitazioni e ancora avremo temperature massime intorno ai 26-27 gradi. Vedete che invece da mercoledì tornerà l'instabilità sulla Valle Seriana. Cosa significa? Che inizieremo con un cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso ma nel corso della giornata si avrà un aumento della nuvolosità specie in prossimità delle nostre montagne con qualche piovasco isolato. Ma sarà proprio nella giornata di giovedì che il tempo peggiorerà decisamente a causa di una nuova circolazione depressionaria che si scaverà ad ovest del Mediterraneo con un minimo depressionario probabilmente sul Golfo Ligure che determinerà piogge rovesci diffusi un po' su tutta la Valle Seriana portando anche una diminuzione, un calo termico delle temperature. Vedete che avremo una giornata con minime di 15 gradi e massime non superiori ai 20 gradi. Venerdì sarà una giornata molto instabile dove saranno in prevalenza i rovesci a interessare la Valle Seriana con ancora temperature piuttosto fresche. Come andrà invece il Ferragosto? Ecco, le prime proiezioni vedono un Ferragosto ancora un poco instabile purtroppo ci saranno ancora dei rovesci più probabili in montagna. Però per i prossimi aggiornamenti, proprio per l'evoluzione della settimana prossima e del Ferragosto vi aspetto sempre qui su Antenna 2 sabato prossimo.